E bella a tutti ragazzi sono Federic2012 e questo oggi siamo qui su Fortnite in compagnia dei miei amici Cioè Daniel e Campesiale Ok, allora, aspettate che devo mettere l'inquadratura Ok, ci siamo Iniziamo Non mi vedete bene che mi muovo Vai andiamo, andiamo, andiamo Vai raga Allora, aiuto Andiamo a killare qualcuno Come potete vedere, non so se è sblocato Però comunque ho 207 kill Ok, aspettate Vai No, che botte, abbandonato Ok, aspettate Ok, ok Aspetta Non so ma io ho avuto il telefono per registrare Raga Raga Raga, ci hanno sparato un missile Andiamo, andiamo, andiamo Vai, vai, vai Raga, comunque se vedete delle luci nell'albero di Natale Aspettate raga che io sto guardando dall'inquadratura del telefono ed è difficilissimo Ok, ora sto guardando da un'altra inquadratura Raga, se volete mandarmi un'amicizia Il mio D Kick Robot Se volete mandarmi un'amicizia Raga, non c'è nessuno da pushare Allora, magari riesco a mirare qualcuno da qua Però non lo so Ok, ragazzi, campese Vai, facciamo uno di uno Salve, campese Salvia Dai, sei un botte Cioè, hai fatto il respawn Andami, che ma Gliela stavo stilando Vabbè, andiamo, andiamo, andiamo Dai Oh, chi sei? Dove stai? Ah, è vero? Ecco tipo Sembra tipo Peppa Pig, raga Però vabbè, dettagli Sembra tipo Ehi, dove sei? Dlin, drin No, mi diso Allora Salve, oschi Della cuta, l'oschi Oh, sì Mamma mia, che palla Cosa sai? Andiamo Ok, cerco il campese Io cerco comunque di avvicinarmi sempre all'audio E spero che il video vi piaccia Se vi piace Come si dice? Porterò altri video Ah, sono ordo Non va a fare niente Andiamo Vediamo qua La c'è il campese Proviamo a dargli una mano Spero Spero Vai, gli stiamo dando una bellissima mano Una mano d'argento Raga, parlate un po' ora No, roma, mi sembra di una tomba Meglio che non mi muovo troppo veloce Perché nella visuale non si vede tanto Raga, comunque In questo video vi sto portando solo il building Perché portarvi tutto Diciamo che è un po' difficile In tutto un video Farò video building Doppio video C'è Video Di building E Come si dice E kill E poi faremo anche edit Però negli edit faccio schifo Perché tipo Faccio così Faccio così Poi arrivo qui faccio così Poi faccio così Poi faccio così E quando devo vedere il numero Faccio così E poi faccio questo È più brava mia nonna A dedicare Raga, fate finta che Non sto registrando Parlate come se non sto registrando Siamo già a 5 minuti di video Eh, guarda che se lo fai troppo lungo Non si carica mai Vabbè raga Vi faccio Vedere l'ultimo building E poi Basta Poi saltiamo Vabbè facciamo vedere Gli ultimi L'ultime cose Poi faremo anche un video Interzetto Con Daniel e Campese Sempre Allora Vabbè Bella raga Per oggi Da Fairy 2012 È tutto Prossimo video Kill su Fortnite Aspettatevi Il nuovo video Sul terzetto Con sempre loro E ci vediamo Al prossimo video Raga Salutate pure voi Ciao Daniel Saluta Ciao Bella raga Da Fairy 2012 Bella Bella